Grazie mille. Lì vedete due riferimenti, il logo dell'istituto del quale faccio parte da marzo e la foto dall'elicottero del Galliera perché questo lavoro si è svolto nella mia esperienza del Galliera da partire direi dal 2005. Ci sono molte considerazioni che avete già sentito fare da Luigi e se c'è sovrapposizione cerchiamo di vedere nell'aspetto positivo, abbiamo l'opportunità di fissare dei punti. Dico questo perché in questo momento è una fase in cui la chirurgia urologica comincia ad essere attratta ma non è ancora un protocollo diventato standard. Tutto, se può servire, racconto in breve qual è stata l'evoluzione che abbiamo avuto noi e come siamo arrivati a questo punto. Come faceva notare Luigi prima, sono studi che si devono ad un chirurgo generale che è Kelet del Karolinska Institute il quale si è dedicato alla chirurgia del colon. Tutto parte da lì perché quando mi sono accorto in un soggiorno che facevo all'università di Liverpool che i chirurghi generali facevano mangiare il budino in prima giornata dopo una resezione del colon, io ho pensato, siccome nel mio centro facevamo con una certa frequenza l'Indiana Pouch che prevede l'impiego del colon, ho pensato che le caratteristiche della chirurgia e le caratteristiche dei pazienti fossero molto simili. Ho visto, ho chiesto, ho preso contatto con il razionale che ha condotto a fare quelle cose lì ed è un razionale assolutamente avvincente perché l'obiettivo finale è ridurre le complicanze. Tu fai tutto questo per far stare bene il malato, come diceva Luigi prima, e il protocollo ERAS assume questa connotazione di differenza, come ha sottolineato lui bene. I protocolli fast track che forse sono partiti un po' prima o comunque è un modo di interpretare fondamentalmente lo stesso atteggiamento nei confronti del malato, hanno più l'accento sulla qualità percepita dal paziente dell'esperienza globale dell'intervento chirurgico. Mentre il protocollo fast track nasce dal desiderio di ridurre le complicanze. Perché c'è questa necessità? Perché la cistectomia radicale, come vedete, è uno degli interventi che... Magari faccio anch'io come Luigi. È uno degli interventi che sono considerati ad alto rischio, questo è un lavoro molto recente. Che cosa notate qua? È ad alto rischio così come è considerata ad alto rischio l'esofagectomia, la pancreasectomia, la resezione polmonare e questi sono interventi comunque ad alto rischio ma non di patologia oncologica con i quali noi difficilmente ci possiamo confrontare. Ma qua ci possiamo confrontare. Qual è il punto che emerge? I punti che emergono sono due. Voi vedete che dal 1999 fino al 2008 la mortalità non è cambiata, nonostante gli avanzamenti dell'anestesia generale. Che cosa è aumentato? La percentuale di pazienti che si presentano all'intervento, alla diagnosi, con tre comorbidità o più. Quindi un intervento chirurgico che prevede una fase demolitiva piuttosto estesa, una ampia demolizione e che in modo originale rispetto agli altri prevede una ricostruzione quando si fanno le derivazioni urinarie con l'intestino molto sofisticata, con un prelevo più o meno ampio di intestino, con una grande quantità di suture che devono chiudersi e la mancata chiusura di ciascuna di queste può essere all'origine di una complicanza potenzialmente minacciosa per la vita. Accanto a questo abbiamo una popolazione di pazienti che nel corso degli anni è sempre peggio. Ma perché è sempre peggio? È il prezzo che paghiamo per avere alzato l'età media e lo vedremo dopo con più dettaglio. Tant'è vero che che cosa succede? Guardate in un sistema dove la sanità è considerata una tra le migliori al mondo, cioè negli Stati Uniti, guardate la frequenza con cui nell'anziano viene fatta la cistectomia radicale, è sorprendentemente bassa. Nell'intervallo di età tra i 54 e i 74 anni un paziente su due fa la cistectomia e la percentuale scende nettamente a mano a mano che ci si alza nell'età. Ma questo perché? Perché è un intervento che espone a complicanze per i motivi che abbiamo visto fino adesso. Però attenzione, noi siamo in questa generazione qua, in questa generazione la proporzione di pazienti tra i 70 e i 74 anni, se prendiamo quelli, ci sono varie definizioni dell'anziano, lo sapete, è inutile adentrarci, ma prendiamo questa. Che cosa ci aspetta per il 2030? l'effetto dei baby boomers e così via? Avremo questa configurazione, anche se dalle ultime tendenze non è detto che sia così ampia questa porzione di pazienti. Noi ci troviamo grosso modo in una situazione intermedia, ma comunque il messaggio è che in quella fascia di età la popolazione aumenta e noi, guardate questa parte della curva, se volete questo è la testimonianza di quanto efficace è la medicina, di quanto bravi sono stati i medici prima di noi, hanno ottenuto un aumento dell'età media, ma a scapito dell'aspettativa di vita, ma a scapito dell'aspettativa di vita sana, perché grosso modo da quest'età per le femmine, che è attorno ai 75, da quest'età per i maschi, che è attorno a 71, compaiono comorbidità. Le comorbidità in genere colpiscono l'apparato cardiovascolare, la prima causa di mortalità al di là dei tumori, oltre ai tumori, è proprio la mortalità per cause cardiovascolari, la seconda patologia più diffusa è la patologia respiratoria, le bronchiti croniche e company, la terza patologia più diffusa sistemica è la patologia dismetabolica, e il diabete. Quindi noi, se va bene, abbiamo un paziente su tre che fa la cistectomia che ha un problema cardiovascolare cronico in terapia da anni, un problema respiratorio cronico e un problema metabolico cronico. In questo malato, un intervento come la cistectomia radicale con la derivazione urinaria, avete capito che ha un impatto che va considerato. Ecco perché probabilmente si fanno così poche cistectomie rispetto, sebbene in un sistema sanitario che è più diffuso e più uniforme nell'ambito degli Stati Uniti, pur con le loro variazioni. Qual è la più frequente complicanza della cistectomia? L'ileo postoperatorio. È in testa a qualsiasi lavoro retrospettivo e anche prospettico, che sono un'assoluta minoranza, la causa più frequente di complicanze, la più frequente complicanza nel postoperatorio è il lileo postoperatorio. Sebbene in questo ambito ci siano diverse definizioni, chi lo considera tale a partire dalla terza giornata, assenza di peristalsi, bowel movements, c'è tutta una costellazione di interpretazioni, ma non c'è bisogno di addentrarsi in questi dettagli. Il concetto è la funzione intestinale che non ritorna. Ora, come vi dicevo, Kelet ha individuato questo problema anche nella chirurgia del colon e si è concentrato su quali sono i meccanismi che possono disinnescare al più presto l'ileo dinamico postoperatorio. Qui vedete un elenco di cose che caratterizzano i protocolli fast track. Io vi segnalo in particolare il risultato ottenuto da questo complesso di fattori. Sicuramente l'anestesia epidurale e l'evitare i farmaci opioidi ha avuto un ruolo, probabilmente è forse il rimedio più importante, non so come la vedete voi, ma è verosimile che almeno ai miei occhi di chirurgo probabilmente se devo scegliere la più efficace misura che ha prodotto un cambiamento nel postoperatorio è probabilmente l'avvento della epidurale perché i meccanismi di difesa che si instaurano proporzionalmente all'intensità del dolore percepito sono smorzati fin dall'inizio perché non c'è dolore. Il dolore viscerale, splancrico non è percepito con la stessa intensità e di riflesso tutti i meccanismi di difesa che la natura ha messo in atto perché noi siamo nati alcuni milioni di anni fa alcuni milioni di anni fa la vita la salvavi cioè le minacce per la vita non erano il tumore della vescica che il dottor Praier Galetti oggi ti opera e ti rifà la vescica come nuova o il dottor Colombo le minacce per la vita erano i danni ricevuti dalle belve dai mummuth e al momento in cui veniva violata l'integrità dell'addome il riflesso era di bloccare qualsiasi secrezione bloccare l'attività intestinale perché se esce materiale intestinale e va nel territorio la specie si perde perdo un uomo quando gli uomini erano pochi ed erano importanti adesso è cambiato tutto anche a questo punto di vista ma l'efficacia l'importanza del blocco analgesico della percezione del dolore viscerale è uno dei meccanismi principali che conducono all'ilio l'ileo in realtà è un fenomeno complesso non ha solo questo ad esempio la stessa manipolazione dell'intestino e la trazione sui mesi hanno un'attivazione del riflesso beh adesso qua ci sono due anestesisti mi sento abbastanza come dire esposto a dire queste cose però ci sono evidenze sperimentali nell'animale che dimostrano proprio questo così come l'infarcimento di neutrofili proporzionale alla manipolazione quindi questo mette l'accento già su un concetto un approccio alla chirurgia che prevede sì una adeguare i mezzi a disposizione nella fase preoperatoria dal punto di vista dell'anestesia ma mette anche noi in un altro atteggiamento perché ci sono provvedimenti che possono essere presi nell'atto chirurgico in sé su questo poi ci torniamo qui vedete elencato più o meno le cose alle quali ha fatto riferimento descrivendole meglio anche Luigi Beretta direi che questi sono gli elementi su cui nei quali si è concretizzato l'approccio fast track in senso lato prima la chirurgia del colon che poi come diceva Luigi pur in assenza di prove di evidenza è stato interpretato che lo stesso beneficio ci possa essere anche sulle altre chirurgie ed è in questo modo che noi l'abbiamo introdotta a Genova naturalmente avendo a che fare noi con una popolazione di anziani Genova ha una popolazione la Liguria in generale ha 1.750.000 pazienti di cui più di 200.000 hanno superato i 65 anni maschi che hanno più di 65 anni sono più di 200.000 naturalmente noi siamo stati confrontati molto con il problema dell'anziano questo è un esempio di demolizione che comprende un paziente che aveva anche una infiltrazione del retto e come vedete è stato tolto anche il retto oltre alla vescica è stata fatta una linfadenectomia ampia perché il work up preoperatorio non dimostrava metastasi ma è questa l'estensione della chirurgia di cui abbiamo bisogno in un paziente che ha 75 anni o più e magari ha le comorbidità che abbiamo visto prima probabilmente no se questo è un intervento ed è diciamo in linea di massimo se questo è un intervento che può condizionare l'aspettativa di vita futura noi speriamo in senso favorevole ovviamente in un paziente che ha 75 anni è questo il principio su cui dobbiamo fare leva la radicalità a qualsiasi costo probabilmente no e in questi pazienti abbiamo rispolverato l'approccio extraperitoneale facciamo la cistectomia interamente per via extraperitoneale retrograda apriamo il peritoneo alla fine per estrarre in questo caso abbiamo fatto una una breaker per estrarre il segmento di ileo che ci serve per la breaker e alla fine se possibile riperitonezziamo almeno in parte vi lascio intuire che le anastomosi extraperitonealizzate una qua e una là dovessero anche andare incontro ad un fenomeno di perdita di leakage è una gestione molto diversa per il paziente e vi assicuro anche per il chirurgo e per l'anestesista quindi tornando al punto possiamo fare qualcosa nel perioperatorio possiamo fare qualcosa anche intraoperatoriamente per avere come obiettivo la riduzione delle complicanze che poi conduce anche a fare stare meglio il paziente e a mandarlo a casa prima questo è grosso modo la spina dorsale del protocollo che avevamo concordato noi con i nostri anestesisti che avevamo proposto e poi è stata una gestione simile molti di questi punti li avete già sentiti da Luigi e non li ripeto vi segnalo soltanto questo che è un aspetto al quale ci siamo dedicati perché questi pazienti candidati alla cistectomia voi sapete che nella chirurgia generale c'è questa sioma rinutri il paziente malnutrito il paziente malnutrito nella popolazione di pazienti che fanno la cistectomia è raro sono meno del 15% che arrivano con una malnutrizione quantificabile per cui noi fino ad oggi abbiamo pensato non è il paziente che può beneficiare di un approccio nutrizionale in senso lato poi vedremo nel dettaglio parenterale interale che anche lì è tutto un mondo assolutamente vivacissimo che si è sviluppato in questi anni in realtà pur essendo la vescica indipendente dall'apparato digestivo il postoperatorio delle cistectomie comporta invariabilmente una deplezione proteica grave sono malati che vanno sotto arrivano a due di albumina 1,8 di albumina solo per effetto della cistectomia se poi è un paziente a rischio che ha fatto una linfadenectomia allargata estesa ancora di più a Genova avevamo negli ultimi due anni un protocollo di chemioterapia neoadjuvante all'istituto dove mi trovo ora c'è un protocollo interno sperimentale che oltre alla chemioterapia fa anche la target therapy sono pazienti che arrivano oltre al carico dovuto alla malattia hanno anche il carico di quattro cicli completi di chemioterapia anche se non sono al di là dei capelli e della telluria e così via anche se non sono apparenti c'è uno stato di maggiore fragilità il concetto di fragilità prevederebbe già di per sé un corso per definirlo meglio soprattutto nei tempi recenti ma tornando al punto sono pazienti che hanno nel postoperatorio per una serie di motivi una deplezione proteica misteriosa non si sa perché allora l'aspetto che ha colpito noi è stato questo attiviamoci prendiamo delle misure per quello che riguarda l'approccio nutrizionale per quello che riguarda il sostegno nutrizionale per prevenire per sostenere questa deplezione proteica postoperatoria gli diamo la seleparina per prevenire la trombosi venosa profonda allo stesso modo nutriamoli per prevenire la malnutrizione che cosa abbiamo fatto mettevamo come vi ho fatto vedere prima a fine intervento una cannula di giunostomica perché dopo una pesante revisione della letteratura anche lì in quegli anni è stato utilissimo perché ho studiato molto come diceva all'inizio Luigi ho lavorato molto e alla fine avevamo deciso di utilizzare sia la nutrizione parenterale totale sia la nutrizione interale perché avevamo esperienza già di nutrizione parenterale che si è diffusa molto è abbastanza rutinaria ubiquitariamente in Italia anche se nessuno ci pubblica sopra voglio dire non ci sono studi attivi però è stata molto accettata è stata molto recepita anche nel mondo urologico noi ci chiedevamo la domanda era se potessimo fare qualcosa di più abbiamo pensato di associare anche la nutrizione interale per cui a fine intervento mettevamo una cannola e giunostomica e che cosa abbiamo visto non è uno studio randomizzato è una singola un singolo istituto cioè eravamo noi c'erano pazienti nel gruppo che non tolleravano la nutrizione interale perché per distensione dei visceri o perché per vari motivi generici che adesso non ha rilievo analizzare nel dettaglio ma alla fine ci siamo trovati con due gruppi di malati qualcuno che ha fatto il programma completo cioè nutrizione interale e parenterale e qualcuno che ha fatto solo la nutrizione parenterale per decidere che cosa come cosa facciamo continuiamo insistiamo cerchiamo di adattarci abbiamo fatto questo confronto e purtroppo non c'è differenza e lì una serie di ipotesi sulle quali torno tra un secondo questo per farvi vedere i risultati del primo gruppo di pazienti come vedete c'era un certo gruppo di pazienti che aveva diciamo di gruppo ASA 3 che come sapete sono pazienti che possiamo considerare collettivamente fragili quello che abbiamo ottenuto è una riduzione netta del tempo di riassunzione della dieta normale che è passato da quattro giorni in una serie storica precedente a due utilizzando protocolli fast track questi sono più o meno gli stessi risultati in una casistica successiva qui c'è una parte di come dire relazione di valutazioni che farei sulla derivazione ma magari la lasciamo per un secondo momento quello che volevo dirvi è tornando a questa diapositiva ci siamo chiesti come mai non c'è differenza perché sembra che oltre un certo limite qualsiasi quantità di calorie tu gli dia e qualsiasi sia la via che usi non viene utilizzata e alla fine dopo mille pensieri è evidente le funzioni di sintesi sono abolite questi sono pazienti che vivono il trauma chirurgico uno dei mille aspetti che il trauma chirurgico prende è l'abolizione delle funzioni di sintesi e allora abbiamo pensato come possiamo potenziare le funzioni di sintesi di questi malati qua questa è tutta roba che riguarda le derivazioni beh io poi sono venuto via da lì ma l'idea era di supplementarli di testosterone il principe degli anabolizzanti le perplessità sul rischio di aumentare l'incidenza di carcinoma alla prostata sono marginali perché tanto tu dopo tre settimane gli levi sia la vescica che la prostata che le vescicole seminali il problema è cosa fare alle donne anche se sono molto meno gli facciamo il GH gli facciamo l'ormone dell'accrescimento cioè la sintesi che viene abolita dal trauma chirurgico noi la sosteniamo così come sosteniamo tutti gli altri aspetti cioè la coagulazione la nutrizione e così via però poi sono venuto via da lì anzi occasione migliore di questa non c'è per proporre magari un focus di dettaglio su un eventuale studio randomizzato e che cosa abbiamo fatto abbiamo visto innanzitutto ci siamo chiesti ma noi probabilmente di questi malati così anziani siamo sicuri che la fisiologia che abbiamo studiato a scuola a parte che sono passati 30 anni sarebbe obsoleta comunque ma dico la popolazione di pazienti è cambiata noi ci siamo costruiti un'informazione sulla fisiologia in un'epoca in cui l'età media era più bassa l'aspettativa di vita non era questa i malati che vediamo adesso sappiamo veramente che cosa allora in modo forse un po' sicuramente ingenuo ci siamo accorti beh innanzitutto è cambiata la popolazione quando abbiamo iniziato io e Renzo a San Raffaele non avevamo la mediana dei pazienti dell'età dei pazienti di 72 anni la mediana vuol dire che metà di quelli che ricoveri ne hanno addirittura di più non era così e allora ci siamo detti ma siamo sicuri che sappiamo bene come funzionano questi malati qua quali sono le funzioni oltretutto più il tempo passa e più è necessario un background geriatrico che dobbiamo costruirci anche noi super specialisti allora in modo ingenuo abbiamo deciso valutiamo questi parametri e vediamo come si sviluppano prima dell'intervento e nel postoperatorio poi cosa abbiamo fatto abbiamo diviso i pazienti in quattro tipi di interventi questo qui che vedete sono 780 pazienti però purtroppo i gruppi sono divisi innanzitutto per pazienti sopra i 75 anni e sotto i 75 anni guardate per esempio il cortisolo come si comporta sopra e sotto i 75 anni guardate poi nei gruppi sopra o sotto i 75 come vanno suddivisi in quattro tipi di intervento TURB e TURP che abbiamo considerato il minimo livello di invasività noi in questo gruppo non ci sono la paroscopia il robot non ce l'abbiamo quindi non c'è problema la prostatectomia semplice cioè la denomectomia transvescicale o retropubica la prostatectomia radicale e la nefrectomia radicale extraperitoneale cioè quindi patologia endoscopia patologia venigna extraperitoneale patologia maligna ma con un approccio extraperitoneale patologia maligna con un intervento transperitoneale questi quattro livelli di invasività e abbiamo cercato di vedere se esistono delle differenze adesso senza entrare troppo nel dettaglio dicevo questa è l'occasione per lanciare una cosa così artigianale una scarpa fatta in casa per lanciarla ad un livello più alto potremmo davvero concentrarci su questi aspetti se siete d'accordo guardate ad esempio la PCR poi purtroppo come vi dicevo essendo molto frazionato alla fine i gruppi sono poco significativi poi non solo ma i dati al T4 che è la settima giornata li abbiamo solo per le cistectomie o per qualche intervento degli altri che ha avuto complicanze per lo più mediche quindi mi è difficile ricavare dei messaggi però guardate il testosterone al quale ho pensato io di ricorrere per sostenere le funzioni di sintesi guardate come si comporta non credo che sia casuale che la depressione maggiore avviene di fronte agli interventi maggiori probabilmente anche perché c'è una maggiore concentrazione di pazienti sopra i 75 anni e sembrerebbe anche quella che dura più a lungo che richiede più tempo per essere riabilitata beh io adesso mi fermo qua c'è anche la musica cosa voglio di più dicevo c'è poi una valutazione come dire dell'aspetto cognitivo a cui ha fatto riferimento Luigi all'inizio vi ha fatto notare che l'anestesia la pre-anestesia con farmaci che hanno un'emivita lunga comporta nel postoperatorio una cosa che nessun chirurgo ha mai misurato ma loro evidentemente sì che è l'interiorazione cognitiva avere un sistema nervoso integro tiene lontane anche le complicanze al di là dell'età e al di là dell'invasività dell'intervento ma su questo poi magari ci torniamo dopo io poi ho diverse cose sulle derivazioni questo è un tributo alla città che mi ha ospitato per tanti anni questo è il Galliera è una struttura a forma di pettine nei congressi stranieri faccio sempre un'ottima battuta che non c'è da stupirsi che in questa struttura a forma di dita l'urologia sia proprio nell'indice qua ridono tutti in genere fatto anche voi che sono più contenti